E' proprio vero che faccio ridere meno, insomma, sono sempre in mezzo alle tragedie, non so perché, sono destinato dalle origini della mia carriera ad essere in mezzo alle tragedie. E' il tuo viso, e' il tuo viso. Questa volta non uccido nessuno, ma uccido una macchina, insomma, tanto... E a proposito di macchina, immagino che guai a sbagliare in quella scena. Sì, perché c'erano pieni di aggeggi elettronici che scoppiettavano, così mandavano scintille. Una volta da fare e basta. Infatti una volta sola è stata fatta, sì, non abbiamo potuto fare il secondo ciac. Il secondo ciac, senti. La cosa che invidio di più, devo dire, sono i miei capelli lunghi, che in questo momento mi mancano. Perché ti sono caduti tutti? No! Perché li ho dovuti tagliare per esigenze sceniche. Pavesiane. Per fare Cesare Pavese, esattamente. Senti, questa, se non vado errato, è la prima, e per adesso l'unica trasposizione televisiva di un romanzo di fantascienza, no? Dunque in Italia qualche cosina è stata fatta, ma non un romanzo di molte puntate. Originali o cose... Sono stati fatti dei piccoli originali in una puntata sola. Mi pare che questo sia l'unico... Io penso peraltro dovrebbe avere un certo interesse, insomma, la possibilità di... In realtà io avevo anche suggerito, devo dire, di fare la seconda parte di Andromeda che esiste, perché esiste un secondo romanzo di Andromeda. Non l'hanno fatta perché Bramieri era occupato. Ma poi mi risulta che Gigi è un cultore di... Sì, sono stato un cultore di fantascienza, infatti. E di astronomia e astrologia o vado errato? Di astronomia e astrologia no, ne so poco. Perché anche a voi e Gigi, mi ricordo che leggevi delle pagine di fantascienza, dei racconti molto interessanti. Gianni. Grazie.